Ancora nomadi, sempre a seguito Massimo, Mirella, Fiorella e Armano da Fiorano Modenese. Fiorano ci saremo presto, eh? E richiedono i tre miti. Infatti ci vediamo il 29 settembre a Spezzano. Vabbè, allora tre miti per gli amici di Fiorano. Quelli che sono stati adolescenti insieme a me e di amici ne hanno almeno 33. Avevano tre miti nel 60 oggi udili il sesso, il socialismo ed il cd. Magari la ragazza c'era chi l'aveva già ma sono in rosa e pepi in gametta. Il sesso, quello vero, era tutt'altro, era lontano. E poi poco alla volta ce lo siamo conquistato di tavolo infrante c'è chi si è sposato. Lavoro di lì, alcuni divolzano infine libertà, ma ormai fuori dal mito e fuori età. ma ritorniamo indietro a quei vent'anni o giù di lì vediamo la faccenda del G.T. Io fortunato ci sono stato sopra a quell'età perché un mio amico lo comprò papà e dopo molti anni ce l'ho avuto pure io un gini vero proprio tutto mio ma gas ce l'ha spensato ed anche arroginito e soprattutto ormai fuori dal mito e c'è chi tra di noi ha abbandonato l'avventura per noia o opportunismo o per paura e chi non l'ha abbandona ma non capisce cosa sia per troppa fede o per poca ironia e c'è chi come me fra sessantotto e masochismo è ancora lì che aspetta il socialismo arriverà siamo certi euro dal volto umano speriamo che non sia di seconda mano speriamo che non sia di seconda mano grazie a tutti Grazie.